E' tutta un'altra musica con le Fisarmoniche by Marco, esclusivamente a Stradella, in via Martiri Partigiani al numero 34, telefono 0385 40 501 web www.bymarco.com, Fisarmoniche by Marco, la Fisarmonica dei numero 1. E' tutta un'altra musica! E' tutta un'altra musica! E' tutta un'altra musica! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.